Questa è la riforma che il centrodestra ha sempre voluto, che infatti il centrosinistra ha sempre avversato, è molto simile a quella che è stata bocciata nel 2006. Il cambiamento non è necessariamente un fatto positivo, può essere anche un cambiamento in peggio, può essere un cambiamento contraddittorio, un testo scritto male, un articolo 70 che non finisce più, degli elementi che non si spiegano tra di loro, si dice che saranno più forti le autonomie locali, ma in realtà si tolgono i poteri alle regioni, però le si mette in Senato perché saranno eletti dal Consiglio regionale. Io mi attengo all'articolo 1 della Costituzione che dice che i sovrani sono i cittadini, con questa riforma i cittadini saranno meno sovrani, non sceglieranno i senatori, potremmo dire non c'entra ma c'entra, non sceglieranno liberamente nemmeno i deputati, quelle autonomie locali saranno meno autorevoli e meno forti, saranno meno trasparenti i meccanismi che legano elettori ed eletti e sarà più debole il Parlamento che ci è stato molto indebolito in questi anni. Quindi votate no, fatelo con questa semplicità, fatelo non per fermare tutto, ma anche per cambiare la legge elettorale, per iniziare una nuova stagione politica in cui le riforme si facciano tutti insieme anche con le opposizioni, non solo con gli amici perché Verdini non è un oppositore, l'abbiamo capito questa sera. Fatelo perché si può cambiare anche facendo interventi puntuali su un testo che per me è sacro, non intoccabile, ma è stato scritto bene, fatto bene, con modifiche precise, razionali e appunto condivise da tutti.